Italian Health Policy Brief, periodico di informazione e dibattito sulle politiche sanitarie, ha sviluppato la ricerca qualitativa Asma Grave, Dismanagement and Patient Flow in pronto soccorso. Una survey che ha fotografato fedelmente il setting del paziente con asma grave nel suo percorso di accesso, presa in carico e dimissione dal pronto soccorso in Italia. Il pronto soccorso è un momento chiave nel percorso del paziente con asma grave. Dall'indagine che abbiamo realizzato su un campione rappresentativo di ospedali italiani e di pronto soccorso italiani emerge come in quasi la metà dei casi il paziente con asma grave arriva in pronto soccorso con l'ambulanza e con un attacco grave percepito dai medici e dichiarato dai medici quasi mortale. Il paziente viene trattenuto in pronto soccorso, messo in osservazione, nella metà dei casi ricoverato, nella metà dei casi inviato ad altri ospedali o a domicilio. L'indagine mette in evidenza l'importanza di avere dei protocolli, delle linee guida che guidino il pronto soccorso, i medici del pronto soccorso alla gestione del paziente con asma grave. Infatti negli ospedali dove c'è un protocollo, e sono circa il 50%, questo significa che nel 50% dei casi non c'è un protocollo, non ci sono linee guida specifiche dedicate alla gestione in pronto soccorso dell'asma grave, il paziente viene gestito in maniera non ottimale e viene inviato sul territorio senza una presa in carico ottimale appropriata da parte di uno specialista. L'indagine mette in evidenza come la presenza di team multidisciplinare, di percorsi strutturali dedicati al paziente con asma grave in pronto soccorso favoriscono migliori outcome, minor numero di reacutizzazioni, un minore accesso ospedalieri, una gestione più appropriata in pronto soccorso e una presa in carico sul territorio dallo specialista ottimale. Dalla ricerca di Italian Health Policy Brief emerge una grande variabilità nei modelli di gestione del paziente con asma grave. Quello che più è problematico in questi pazienti è la gestione della cronicità della malattia, perché dal punto di vista dell'accesso di pronto soccorso, quindi in urgenza, il trattamento viene fatto, viene erogato bene in tempi abbastanza rapidi, ma il problema poi si pone al momento della dimissione del paziente. Se fin dalla fase del pronto soccorso non si stabilisce un adeguato ed appropriato piano per la presa in carico territoriale del paziente, quindi sia da parte del medico di medicina generale che è il gestore del paziente ed è colui o colei che decide tutte le terapie, perché pensiamo che questi pazienti possono avere anche delle comorbidità e fare delle politerapie farmacologiche, quindi i problemi sono tanti. Quindi al momento della dimissione ci vuole un piano ben concordato e condiviso fra tutti gli attori che se ne dovranno occupare, compreso il paziente, compreso il paziente che dovrà essere adeguatamente informato, in maniera tale che questo paziente faccia la terapia, persista nel tempo nella terapia, riduca gli accessi acuti che sono quelli che poi peggiorano anche la malattia. Vei ha indicato come il vero problema sia il follow-up territoriale del paziente dimesso dal pronto soccorso. I dati della ricerca che verranno presentati oggi non ci hanno come associazione di pazienti assolutamente stupiti. Questi sono elementi che noi riscontriamo da anni e che chiediamo in tante forme e a tanti livelli che si possa intervenire affinché vengano modificate. Non può più succedere che un paziente con asma o con asma grave acceda al pronto soccorso per una crisi acuta e grave e venga dimesso dal pronto soccorso senza essere stato prima orientato e inviato allo specialista in grado e capace di prendersi cura del suo livello di gravità della persona che è stata in quel momento ricoverata dal pronto soccorso.